buongiorno equipaggio benvenuti a bordo e benvenuti qui a casa blanca marocco questo è il parcheggio dove abbiamo dormito questa notte alla fine è stato abbastanza silenzioso adesso è riniziato il traffico importantissimo di questa città che la più grande del marocco e come abbiamo già detto è anche una delle città più grandi di tutta l'africa veramente enorme oltre 3 milioni di abitanti non c'è nessuno in questo parcheggio ieri sera a una certa ora sono arrivate un po di macchine probabilmente di persone che sono andate a mangiare nei ristorantini che sono lì sotto dove c'è quella scogliera che di fronte all'oceano il clima è umidissimo il camion è tutto bagnato abbiamo probabilmente addosso anche un po di salsedine il centro di casa blanca è da quella parte per darvi un'idea di dove siamo a piedi sicuramente 40 minuti per raggiungere la grande moschea di assan secondo noi credo che oggi andremo a fare un giro adesso vediamo un po come muoverci nei nostri precedenti viaggi qui marocco abbiamo quasi sempre bypassato casa blanca perché comunque una grande città e non è facile anche trovare posti dove fermarsi infatti vedete abbiamo trovato questo parcheggio non c'è molto di più in realtà però questa volta ci tenevamo perché è passato tanto tempo dall'ultima volta che appunto l'abbiamo vista vediamo un po come è cambiata casa blanca è la capitale economica del marocco e diciamo che qua dove ci sono tutti i grandi business le sedi delle grandi aziende è qui dove girano veramente tanti soldi con i pro e con i contro naturalmente tantissimi di voi ricorderanno casa blanca forse anche per il famosissimo film di hollywood e pensate però in realtà è stato completamente registrato negli studios neanche una scena è stata veramente registrata qui a casa blanca ma adesso facciamoci un bel caffè luci viene a bere il caffè che poi si va a casa blanca ero lanciata un po troppo lontano da sta ciabatta bene lasciamo valentino al parcheggio e dato che abbiamo visto che sono quasi otto chilometri andare in centro prendiamo mini taxi qua intanto dovete sapere che nei parcheggi esterni in realtà ci sono anche la vauta come vedete ci sono un po di persone che sono sedute a bordo strada davanti a una sedia e aspettano i clienti sono i secchi pieni d'acqua già che sei qua a parcheggiare magari ti lavi anche la macchina non sono due ragazzi guardate che belli murales questi edifici ragazzi siamo stati scaricati qua davanti alla moschea la moschea a san secondo porta il nome del re a san secondo che ha deciso di costruire questa incredibile edificazione negli anni 80 principalmente perché qui a casa blanca non c'era nessuna grande reale attrattiva a livello di palazzi edifici così importanti e quindi ha detto voglio regalare a casa blanca un edificio che passerà la storia ed effettivamente così ha fatto ci sono voluti 13 anni per costruirla ma poi altri anni per sistemare tutta la zona qua attorno il re a san secondo ha lasciato questo regalo alla città e beh intendiamoci il regalo che comunque è stato costruito grazie alle tasse pagate dal popolo marocchino tanto da questo punto di vista si nota una delle grandi particolarità di questa moschea ovvero che è costruita sull'oceano l'ingresso all'interno della moschea è un po trassenato che si paga il biglietto bene ragazzi i biglietti li abbiamo fatti ora abbiamo due opzioni in realtà c'è la visita guidata compresa in italiano pare e c'è anche il museo quindi intanto andiamo a farci un diretto qua al museo tanti esempi della lavorazione la decorazione del rame in foglie che vengono lavorati per giorni mesi per ottenere questi risultati l'arte della lavorazione del legno qui abbiamo dei mosaici molto semplici che utilizzano i colori tipici marocchini qua vediamo il blu del cielo l'azzurro che è l'acqua di mare il giallo che è il sole il marrone che è la terra ci hanno chiamato a raccolta stiamo andando ad avvicinarci alla moschea così possiamo camminare per bene sotto il minareto che è il secondo più alto al mondo secondo solo la mecca ma ricordiamo che questa è la moschea più grande di tutta l'africa siamo entrati dentro ci hanno dato il sacchettino dove mettere le scarpe e stiamo camminando qua sul tappeto e questa è tutta la sala della preghiera ragazzi è immensa e qua si ritrovano tutte le decorazioni fatte dagli artigiani marocchini provenienti da tutto il paese che abbiamo visto nel museo quindi lavorazione di stucchi di legno di rame essere qua dentro è molto particolare al di là della bellezza della moschea della lavorazione ma anche perché è l'unica moschea in marocco che un turista può visitare camminando dentro la moschea notiamo alcuni particolari le porte che non sono in legno ma sono pensate in titanio e sono state fatte da artigiani italiani in questo caso e questi lampadari che sono di vetro di murano e pensate che sono alti sei metri sono pesantissimi circa una tonnellata e mezza la lunghezza della sala di preghiera è 200 metri e la sala è larga 100 e pensate che è alta 65 chi di voi sa fare i calcoli velocemente avrà capito che parliamo di 365 metri un metro per ogni giorno dell'anno camminare sul marmo in una moschea è una cosa molto particolare non ci sono i tappeti ovunque ma il marmo è stato decorato proprio come se fosse un tappeto ovvero tutto questo disegno appartiene a quello che è un tappeto tipico di marrakesh d'inverno però fa freddo e pregare sul marmo non va tanto bene quindi pensate che qua sotto ci sono dei tubi dove scorre l'acqua calda che riscaldano il pavimento ma la cosa incredibile di questa moschea è l'estate quando invece qua dentro dove pensate ci possono rimanere fino a 25.000 fedeli tantissimi può fare molto caldo e allora questo tetto si può aprire vedete che c'è un taglio lì in mezzo il tetto completamente in legno si apre in cinque minuti creando uno spazio completamente aperto e fresco qui al centro possiamo vedere questa parte che è pavimentata con del vetro e si vede la parte sottostante che è la sala delle abluzioni dopo ve la spiego la cosa super interessante è che questo è un corridoio che in parte può venire allagato da vedete da quei fori esce l'acqua e quest'acqua scorre sotto il pavimento questa cosa viene fatta in alcuni giorni particolari dell'anno durante le preghiere pensate con il tetto aperto certamente si tratta di una situazione veramente molto affascinante vedete l'acqua scorre qua dentro questo è un gradino dove l'acqua scorre a cielo aperto acqua cielo e terra sulla quale sto camminando rimettono in collegamento i fedeli con i tre elementi principali questo è il punto più importante della moschea ed è presente in tutte le moschee del mondo questa è la nicchia lì è dove si mette l'imam a condurre la preghiera dei musulmani la nicchia è rivolta verso la mecca quindi questa che vedete di fronte a me è la direzione in cui si trova la mecca e la preghiera viene rivolta in questa direzione importante per noi italiani notare che in questa parte della moschea è stato utilizzato del marmo di carrara vedete quelle due placche più larghe lì a fianco sono appunto marmo di carrara ed è lì in mezzo che sta l'imam questa moschee è stata progettata da un architetto francese che conosceva molto bene il marocco e ha fatto un lavoro incredibile per rendere questa moschee a molto particolare guardate ad esempio quelle piccole colonne sono di fatto degli altoparlanti non si vede nulla di elettrico nulla che possa far pensare che qua ci sia qualche cosa che trasmette il suono che non sia effettivamente la struttura stessa a fare parlando di religione dobbiamo ricordare che il marocco è un paese in cui i musulmani sono sunniti solamente il 10 per cento dei musulmani del mondo sono sciiti e gran parte di questi si trovano in iran devo dire che camminare qui sotto è veramente molto particolare sopra questo terrazzo di legno pregano le donne normalmente le moschee sono divise le donne pregano a destra o a sinistra o davanti o dietro mentre questa è l'unica moschea in cui pregano sopra nel secondo piano e questa particolarità del secondo piano ci fa notare un'altra singolarità di questa moschea ovvero che sono state unite le tre caratteristiche dei luoghi religiosi di tre religioni monoteiste la religione ebraica regione cristiana regione musulmana della religione ebraica abbiamo che come nelle sinagoghe le donne pregano il secondo piano della religione cristiana abbiamo le tre navate tipiche delle nostre chiese e naturalmente il resto è tutto ciò che riguarda la moschea musulmana adesso ci spostiamo andiamo a vedere la parte sottostante dove c'è appunto la sala delle abluzioni e capiamo perché sono così importante intanto qua ci ritroviamo di fronte a queste enormi porte che sono anche queste di titanio costruite da artigiani italiani e pensate che queste si sollevano scompaiono completamente pesano 10 tonnellate quasi come valentino scendiamo nei piani sottostanti quindi sotto il livello della preghiera vera e propria e passiamo in realtà anche sotto il minareto ragazzi anche queste stanze sono bellissime incredibili sono tutte delle fontane e questa quindi è la sala delle abluzioni ovvero il momento in cui i musulmani prima di andare a pregare si devono lavare le mani si devono lavare il viso si devono lavare i piedi con una gestualità molto precisa questa gestualità è legata puramente alla logica perché i musulmani quando pregano sono direttamente in contatto con dio e di conseguenza lo fanno da persone pulite un po insomma come quando si va a un colloquio di lavoro nuovo che insomma ci si veste bene per fare bella figura è la stessa cosa anche in questo caso la cosa molto interessante che spesso magari non viene raccontata è che non necessariamente i musulmani devono fare le abluzioni ad ogni preghiera che ricordiamo sono cinque al giorno devono farle solamente se nel frattempo hanno fatto delle cose che li rendono un po impuri banalmente se si sono messi a insultare l'amico devo rifare le abluzioni prima di venire a pregare come detto qua ci troviamo sotto la sala della preghiera vera e propria e lì in mezzo ci sono le vetrate che le davamo prima nella parte soprastante anche la sala dell'abluzione divisa tra uomini e donne questa nello specifico è quella degli uomini la sala delle donne sta dall'altra parte ed è sostanzialmente identica ci ho detto che cambia solamente la colorazione dei marmi per ragazzi credo che meriti una visita anche il bagno di questa moschea questi sono i sedili che stanno davanti a quelli che sarebbero i nostri lavandini e questi sono tutti i secchi che servono per pulirti dopo che hai fatto i tuoi bisogni perché in questi bagni non si usa la carta igienica e devo dire che anche l'ingresso ai bagni decisamente molto lussuoso l'impressionante minareto di questa moschea ma in realtà tutti i minareti tutte le moschee del mondo servono o meglio magari servivano al muezzin per la chiamata alla preghiera il muezzin doveva andare fino in alto e doveva fare quello che è la chiamata alla preghiera e questo cinque volte al giorno molte delle persone che vengono in questi paesi per la prima volta e sentono la chiamata la preghiera del muezzin possono pensare che sia un disco una registrazione in realtà no il muezzin chiama in diretta non è mai una registrazione neanche in questa moschea che è aperta alla preghiera per tutte le preghiere della giornata la cosa che differenzia ormai le moschee rispetto al passato è che adesso magari il muezzin non va più fino lassù per chiamare come una volta ma in realtà rimane in basso e usa degli altoparlanti qui sulla piazza dove ci troviamo adesso e anche tutta la moschea di assan secondo si trova sull'oceano cioè una volta l'oceano arrivava a metà piazza assan secondo ha voluto costruire questa enorme moschea proprio sull'oceano infatti noi ci troviamo sulle palafitte e sotto scorre l'acqua dell'oceano per evitare che l'oceano con le sue onde potenti rovinassero questa piazza e la moschea è stata costruita a tanti chilometri da qua in mezzo al mare una diga sotto il livello dell'acqua che blocca le onde più forti cioè le divide le onde alte vanno a destra e a sinistra e proteggono proprio qui dove ci troviamo adesso assan secondo è il padre dell'attuale re del marocco ha voluto costruire questa enorme moschea sull'acqua perché ha riflettuto su una frase del corano che dice che la casa di dio è costruita sull'acqua una particolarità di questa famiglia reale è che insieme alla famiglia reale della giordania è l'unica ancora in vita discendente dal profeta maometto ma a questo punto proseguiamo la nostra passeggiata camminando nella piazza centrale quella che sta di fronte alla moschea ricordando che dentro ci stanno 25 mila persone ma qua fuori ce ne stanno molte di più e nei periodi particolari come ad esempio quello del ramadam qua è pieno di gente in preghiera il complesso che sta alla sinistra della moschea è un enorme libreria mentre quello che sta dall'altro lato è il museo che abbiamo visitato all'ingresso ragazzi sapete che abbiamo scoperto che la citron ami quello che vedete lì è costruita qua in merocco a nitra siamo passati di fianco lo stabilimento adesso camminiamo qua nelle retrovie guardando i gatti che giocano per andare nella medina la medina di casablanca non è famosa come altre venire poi marocco però certamente merita una visita comunque questa credo che sia la via dei meccanici dentro questi piccoli edifici si nascondono dei meccanici che smontano pezzi vari tanti sedili anche un po di tappezzieri probabilmente ricordiamoci che in questi paesi in realtà si usano i quartieri c'è il quartiere dei meccanici il quartiere dove si vende la frutta il quartiere dove si vende la carne tutto segregato a quartieri è tipo questo qui il carrozziere il carrozziere è qua sul marciapiede e proseguono da queste lato i tagliere dei papri che fanno tallature anche di meccanica da questo lato invece ci sono i mobilieri tappezzieri di divani poltrone sacco di cose alcune attività si fa veramente fatica a capire che cosa svolgono cioè devi essere local per capire dove andare anche a volte qui riparano lavatrici e motori voi ve lo fareste riparare il motore qui in mezzo alla strada questi taglier sono molto gettonati dai tassisti vuol dire che so bravi ragazzi guardate questo edificio cioè pazzesco adornato in stile piratesco bene ecco la possiamo entrare dentro la medina adesso per noi la prima missione qua dentro è cercare qualcosa da mangiare perché teniamo su un poco di hambre potrebbe non essere così complicato trovare qualcosa da mangiare qua vediamo un po' intanto qua ci sono un sacco di melograni fanno i succhi è un mercato a cielo aperto sta un sacco di pesce naturalmente c'è anche la vendita del pollo e poi i polli vengono venduti vivi non già macellati li pesano e te li porti via vivi devo dire che abbiamo iniziato un po a camminare a caso ci siamo trovati in una parte della medina dove in realtà possono arrivare anche in qualche modo a noi sconosciuto le macchine credo che se qua sbagli strada con le macchine è finita cioè non la tiri più fuori ragazzi qua la specialità è tonno all'olio d'oliva dentro il panino e noi lo proviamo noi mangiamo sempre il panino al tonno e ce ne facciamo uno subito puoi scegliere con il tonno al formaggio rosso o il tonno normale o il tonno al formaggio normale ragazzi il mio panino che è quello super farcito costa meno di un euro intanto il muezzini chiama lucia ha preso quello semplice assaggiamo il panino il panozzo tonno olive e patate semplice ma naturale meglio di così adesso stiamo camminando in una parte che è anche coperta quindi ombreggiata e qui ci sono anche in parte un po dei negozi di artigianato locale un po più destinato i turisti le mura esterne della vecchia medina sono la parte un po più turistica fa ci sono un sacco di negozi che vendono souvenir tappeti pellami abbigliamento c'è qualche ristorante c'è vento essere in quel posizio la ramse significa avere tanto a che fare con i venditori quanti no devi dire almeno tre almeno dieci perché se no non è un vero no milano ciao la piazza dove abbiamo bevuto il caffè si chiama piazza delle nazioni unite e dovete sapere che è stata ristrutturata relativamente di recente ed è circondata da questi edifici veramente enormi dove ci sono le sedi di grandi attività commerciali anche di banche ma qua c'è un passaggio che ci riporta dall'altra parte della strada dove c'è la medina dove è stata allestita anche una mostra fotografica sono esposte un po di fotografie che sono state scattate proprio qui attorno principalmente diciamo nella medina ragazzi ci sono questi preparati che volevamo assaggiare ci ricordiamo questi gli altri non avevamo mai provati ma non mi ricordo assolutamente come si chiamano adesso chiediamo e li proviamo però magari al prossimo negozio perché non c'è lo chef non c'è venditore qua ci sono mix di odori pesce carne verdure spezie motorini qua nel centro della medina c'è anche la dentista è ricordate marrakesh express più o meno uguale venditori di pesce come se non ci fossero domani ma su squali la separazione tra la medina turistica e quella più autentica diciamo che è netta non ci sono il buttadentro guarda di questo quadriciclo artigianale con anche la leva del cambio tanta roba completamente fatto in casa questo è un negozio di manichini usati e qua se hai bisogno di scale in legno vieni qua guardate quante ce n'è e questa invece ragazzi è la parte del mercato esterno si tratta di tutte robe usate anche di provenienze particolari certamente qua se può trovare di tutto qui ritroviamo quello che vogliamo assaggiare quindi a questo punto qui nel mercato proviamo assaggiare questa cosa che non ci ricordiamo come si chiama non siamo riusciti a farci capire dalla signora per provare ad assaggiarlo un pezzo è un po ciccoso è una roba di tuo pane ma è più sfogliata io prendo quello più chiaro com'è è buono è molto buono un pezzo di questo un po più scuro un po più chiaro è più buono quello più chiaro comunque lo userei come pane non è come pane ma adesso noi stiamo camminando in direzione del minareto della moschea non stiamo andando proprio a caso e quindi li probabilmente riusciremo a uscire da questi vicoli da questo labirinto bisogna prestare veramente molta attenzione che avere mille occhi perché puoi venire investito da biciclette motorini monopattini auto allora vedo alle alle marocco molti bene ci siamo fatti scaricare dal tassista qua sulla cornice di casablanca non tanto lontano dal maraboult è là in fondo e ragazzi ci siamo fatti un bel giro adesso ci riposiamo un po a casa ci acclimatiamo la nostra abitazione qua nel parcheggio e casablanca è sempre comunque una città particolare è abbastanza simile a come la ricordavo hanno sistemato alcune strade del centro però ha sempre il suo fascino molto rustico buongiorno equipaggio benvenuti a bordo e bentornati qui a casa blanca marocco dove la vita inizia abbastanza presto la strada qua davanti è già decisamente trafficata la vita si ferma intorno alle 10 di sera qui dopodiché riprende con il canto del muezzini sostanzialmente che significa abbastanza presto devo dire che si è dormito veramente bene qui è vero che non siamo in centro ma siamo in una città grande dove la gente si sposta anche nella periferia le guardie nel parcheggio chiudono con quei birilli non tanto per la sicurezza per non far entrare veicoli che non pagano ma durante il giorno far entrare nessuno qua che non sia chi deve parcheggiare e quindi noi siamo stati come in un campeggio né più né meno oggi ci spostiamo a tra l'altro ieri sono arrivati anche questa coppia di spagnoli con questo camperozzi il parcheggiatore lo ha fatto mettere qua vicino a noi perché a una certa ora credo che gli facessimo ombra la si vede l'oceano in questo momento decisamente calmo qui la mattina c'è veramente una cappa di umidità pesantissima infatti abbiamo tutta la fiancata del camion bagnata ed effettivamente i pannelli fotovoltaici iniziano tardi a lavorare quando il sole riesce a smaltire un po' tutta questa nebbia che c'è qua sopra le brujard e nel frattempo è spuntato un po' di sole ci troviamo lentamente senza fretta però oggi vogliamo raggiungere Marrakesh anche perché ci sarà una sorpresa Marrakesh non subito ma ci sarà una sorpresa devo dire che è proprio una bella sensazione ritrovarsi in viaggio riiniziare a vivere questa vita on the road che prevede situazioni di ogni tipo dal parcheggio come questo ai deserti che andremo a visitare a brevissimo e in parte sappiamo già quello che ci aspetta quindi sappiamo l'emozione che vivremo in quelle giornate però ci va proprio di cogliere tutto quanto cioè non solo quello che apparentemente può sembrare bello ma anche quello che lo può diventare solamente vivendolo vi ricordate che io ho messo questo pezzo di carta in canada quando pensavo che fosse questo a vibrare a toccare mi sono reso conto adesso che non ho neanche sistemato così come non ho sistemato in realtà lo spruzzatore del nostro tergicristalli e quella è una cosa che dovrei fare salutiamo il parcheggio di catablanca con il bianco marabut davanti grazie di averci accolto ci sembrava troppo bello e troppo facile uscire da casa blanca indenne dal traffico comunque a bordo strada qua in queste zone dove ci sono i cantieri potete vedere ci sono questi furgoni fermi che hanno dietro una macchina del caffè espresso e fanno i caffè ma direi che è anche arrivato il momento di fermarsi a mangiare aria di sosta mancano una settantina di chilometri a marrakesh mangiamo poi arriviamo con calma qui abbiamo delle cose da mangiare che arrivano anche queste da lontano arrivano dal friuli ce le ha portate uno di voi ah che profumo di formaggio fuso qui fuori in pausa pranzo c'è anche la gendarmerie e anche i militari ci siamo accorti che lungo la strada che abbiamo percorso fino a qua che in ogni cavalcavia c'era un gendarme e un militare a fare la sorveglianza ogni cavalcavia incredibile per un centinaio di chilometri è stato così allora non è un piatto tipico marocchino però sto formaggio fuso gli ho già dato un'assaggiata e devo dire che è tantissima roba e noi ci aggiungiamo un po' di olive che non ci stanno male e pomodorini anche e anche i pomodorini che ci stanno altrettanto bene ma ragazzi noi adesso stiamo andando a marrakesh e lì rimarremo qualche giorno ed è anche il caso che magari tiriamo giù la moto così la proviamo la guardiamo cerchiamo un po' di vedere se c'è qualche cosa da fare anche lì vado a mettere un po' di benzina dentro questa tanica qui ci conviene pagare coi contanti perché si risparmia con il cambio e ci ha tenuto a farmi vedere che aveva zerato il contatore e adesso ci lava il vetro si arrampica servizio completo bene ed eccoci arrivati a marrakesh veniamo accolti subito dai taggin di terracotta che sono uno dei tipici souvenir che se prendo quello giusto naturalmente può essere usato anche per cucinare come detto noi ci fermeremo qua qualche giorno in attesa della sorpresa ma anche perché vogliamo fare gli ultimi lavoretti chi di voi ci segue da tanto tempo sa che noi quando siamo partiti più di sei anni fa ci siamo fermati proprio qua a terminare Valentino che non era ancora finito quando siamo partiti andremo nello stesso posto perché ci siamo andati tante tante volte ci troviamo bene dovevamo stare fermi dobbiamo avere il luogo dove fare qualche lavoretto scaricare la moto e quindi useremo per la prima volta la moto siamo quasi arrivati ragazzi qua in mezzo a quest'ozzi di verde c'è il campeggio di marrakesh qui non è cambiato niente il cancello è pitturato di fresco per il resto è tutto uguale questo è un campeggio che è parecchio amato da tanti fuoristradisti tanti francesi anche perché la proprietà è anche francese adesso non so più almeno un tempo era così ed è incredibilmente economico per il posto che è ci sono in realtà anche delle tende delle cose ma noi andiamo al campeggio sembra bello pieno dei turisti guarda qua qua c'è un big big tipo americano siamo un po' storti devo dire che sognavamo questo momento dal giorno in cui abbiamo riniziato i lavori per la partenza in Africa qui abbiamo anche un mega camperozzo bimobile su base daily come dicevamo ci fermiamo qualche giorno anche perché insomma dobbiamo testare il setup del campo tiriamo fuori la mia tenda che credo di aver messo qua tenda piazzata più o meno mi sa che bisogna mettere qualche altro filo è vero che qua ci sono anche le galline che passeggiano però l'uovo non te lo lasciano mai ma stanno facendo la lotta le galline sotto Valentino adesso dobbiamo spacchettare anche il nostro tavolo perché tra l'altro devo fare anche un po' un supporto dentro il gavone devo dire che ci stiamo già piazzando bene il nostro spazio l'abbiamo occupato a posto bellina con la borsettina adesso proviamo a vedere dove si fa la benza serbatoio che piccola e questa è la batteria bello bello tefero l'olio si controlla qua sembra come quello che avevamo nel generatore onda uguale l'olio direi che c'è è ready to go ahhh cavalletto faccio un giro qua, torno e torno vuol dire che si guida bene c'è una fattura che mi ricorda un po' l'India dopo aver allestito il campo siamo abbastanza pronti per andare a testare la piscina perché fa veramente caldo ragazzi le montagne sono poco distanti e per andare nel deserto le dovremo attraversare c'è un passo veramente molto alto però se ne parleranno i prossimi giorni questa è la piscina direi che non è niente male adesso vado a fare un bagnetto anch'io mi sono fermato a parlare una mezz'oretta con un signore che sta parcheggiato davanti a noi su veliveco è una persona simpaticissima ma anche con una storia veramente molto interessante da viaggiatore non overland su veicolo ma avventure con cammelli, cavalli, biciclette a piedi per 35 anni vi racconterò qualcosa spero insieme a lui magari